Ormai si comunica che dopo l'allenamento di lunedì pomeriggio al training center la squadra nel ritiro fino alla partita contro il Torino. Dico un attimo la mia, poi lascio la parola a voi. Per me è semplicemente fuori luogo, nel senso che è giusto un contentino, un palliativo rispetto a quello che invece è il vero problema, perché non è certo il ritiro che risolverà le problematiche del Napoli, ma soprattutto in questo momento, a due giorni dalla fine di questa parte del campionato, per poi rivedersi l'anno prossimo, lo trovo fuori luogo. Raffaella? Sì, in parte sono d'accordo con te, perché effettivamente alla fine, se poi dopo dicono ritiro fino al Torino, poi dopo ci sono le feste, comunque i giocatori tornano a casa per le feste, è anche un po' inutile andare in ritiro. Oddio, forse è inutile no, perché magari vuole essere, secondo me questo ritiro vuole essere una sorta di primo campanello d'allarme, no? Come per dire svegliatevi un attimo perché non è piaciuto assolutamente l'atteggiamento che avete avuto contro la Lazio e adesso non si può sbagliare. Dopo la breve sossa, tra l'altro, ci saranno Cagliari, Spezia, Udinese e le altre avranno scontri diretti. Forse addirittura dopo l'Udinese avremo diverse partite comunque abbordabili rispetto alle nostre avversarie. La grandezza, secondo me, la grandezza del Napoli si vedrà quando porterai a casa tutti i punti disponibili in queste partite. Mentre le altre poi si giocano gli scontri diretti. Ecco, allora ci sta anche perdere uno scontro diretto, però quando giochi poi contro squadre abbordabili devi assolutamente vincere. Per poter puntare anche alla zona Champions perché poi si inizia a perdere punti anche con un altro tipo di squadre, con squadre di media, bassa classifica. Allora poi i problemi diventano un po' troppi. Sì, Michele e poi Nicola. Io penso però sia anche un problema serio di personalità di questo Napoli perché se dopo due sconfitte è avvenuto in questo modo c'è bisogno di un ritiro, no? Quasi come a volersi redimere da queste situazioni e onestamente non credo che sia la grande squadra. Michele e poi dopo Nicola. No, io onestamente ero contro il ritiro l'anno scorso, sono contro il ritiro ora, credo ancora, credo tuttora che sia una cosa non da grande società. L'autorità non si impone in questo modo, tra l'altro in un periodo onestamente dove già i calciatori vivono poco la propria vita, costringerli a fare altri due giorni tutti, cioè non tornando a casa, secondo me è una costruzione assolutamente inutile che non cambierà niente perché un periodo di difficoltà non si risolve passando due notti da soli, senza famiglia, sul, tra virgolette, sul posto di lavoro, mettiamola così, non ha risolto i problemi l'anno scorso che erano molto più gravi, non risolverà tantomeno questi e il Napoli si continua a dimostrare onestamente una società che ne sbaglia molte. Nicola, tu invece cosa pensi di questa società? Ma io credo che questo ritiro lo reputo, possiamo dire, anche un po' giusto, però non risolutivo, perché di sicuro non sarà, come dicevano Michele e Raffaele, il ritiro a risolvere i problemi del Napoli. Diciamo che quando prima ho parlato di spettro della situazione di Ancelotti, parlavo anche un po' in parte del ritiro, perché ieri sera per un attimo ho ottenuto veramente di rivivere situazioni passate spiacevoli dell'anno scorso, l'esonero, ho pensato proprio alle peggiori situazioni vissute l'anno scorso e sicuramente, come abbiamo detto, non risolverà i problemi, però non mi sento di dire inutile, poiché come ha detto prima Raffaele, è una sorta di campanello d'allarme, una sorta di avvertimento in vista poi di situazioni future. Sì, no, a me più che altro, onestamente, sembra una mossa inutile anche perché, cioè, oggettivamente, se i problemi del Napoli sono Maximović e Kulibali e Euspina si continuano a passare la palla perché non hanno alternative di gioco, non sanno a chi passarla, il ritiro non risolverà niente, anzi, tra l'altro, questa è un popular opinion, l'anno scorso la tensione nei rapporti tra società, squadra, allenatore, furono molto dettati da questa voglia autoritaria, da questa deriva di voler andare in ritiro come se il ritiro fosse il ritiro di 25 anni fa quando, onestamente, i calciatori non potevano pensare a nulla se non al campo, oggi sappiamo che, cioè, i ritiri vengono gestiti in una maniera molto più libertaria, tra virgolette, quindi è una cosa assolutamente... Ma poi parliamo di tre giorni, ma che ritiro è? Sì, ma poi, cioè... No, veramente di due, anche perché è lunedì martedì, poi mercoledì sera, dopo la partita tornano a casa e, anzi, si faranno le loro festività natalizie. Quindi, ripeto, ha una finalità, secondo me, poco edificante, perché è una squadra che va migliorata sul campo, non nelle stanze d'albergo a chiudersi dentro i dormiti. Non è una questione disciplinare, è una questione proprio di giocatori che sul campo, che non riescono a dare il loro meglio. Quindi, io credo che vada risolta, almeno in modo differente, anche attraverso un colloquio, mettersi tutti in cerchio con l'allenatore e parlare, dare il proprio... dire il proprio pensiero e, soprattutto, confrontarsi. Credo che il confronto sia la cosa più importante.